Elisabetta Trovati, presidente della Proloco di Capanne, primo sabato della 40esima edizione della Sagra della Granocchia. È arrivato finalmente il momento di cominciare a vivere questo grande evento, 40esima edizione, un traguardo fantastico. Sì, un traguardo fantastico, un traguardo voluto comunque da tutti noi che da tanti anni ci dedichiamo con impegno alla realizzazione di questa manifestazione. È una delle più longeve nel territorio del Perugino e noi tutti gli anni cerchiamo di dare il massimo, il massimo che poi i frutti del nostro lavoro, del nostro contributo, servono per realizzare cose qui nel territorio nostro di Capanne. Capanne è una piccola realtà del comune di Perugia, è una frazione in realtà del paese Bagnaia. Quindi siamo un pochino da soli in tutto quello che facciamo e tutto quello che vedete qui intorno è fatto grazie alle fatiche, ai sforzi dei nostri collaboratori, dei nostri soci, del consiglio che amministra appunto l'associazione. Quest'anno come ultima cosa abbiamo realizzato l'area parco giochi per bambini, dopo non poche difficoltà. L'anno scorso avevamo inaugurato il monumento ai caduti delle grandi guerre e quest'anno finalmente ci siamo dedicati ai bambini che da tanto aspettavano questi giochi. E ripeto, è giusto accontentare tutti e soprattutto i nostri paesani che danno veramente l'anima a dieci giorni, soprattutto in queste condizioni atmosferiche. Possiamo dire che mai come in questo ambito è possibile toccare con mano quali sono gli effetti risultati della Sagra. Le strutture sono cresciute anno dopo anno e chi viene ogni anno appunto tocca con mano quanto di buono è stato prodotto grazie al lavoro che dura mesi e mesi. Sì, è questo il nostro impegno, investire per il sociale, investire per la nostra comunità, quindi tutto quello che, ripeto, voi vedete è a disposizione di tutti, non solo dei nostri soci, dei nostri collaboratori, ma di chiunque abbia la necessità di usufruire di qualsiasi cosa che trovate all'interno di quest'area. E' possibile usufruirne perché lo facciamo per la comunità e non per noi stessi. Questo era uno spazio, per esempio parlando di cambiamenti, completamente diverso. Gli altri anni adesso c'è un bellissimo pratino, i giochi, i bimbi che stanno già approfittando di questa nuova realtà. Credo che sia bellissimo per voi adulti che lavorate tanto a questo tipo di attività, vedere che è già possibile usufruire di questo nuovo spazio. Sì, ripeto, è importante perché tutto quello che noi facciamo, come ho detto già oramai tre volte, è per la nostra comunità. Anche perché qui noi abbiamo un'importante realtà di atletica leggera e quindi teniamo molto alla crescita dei bambini, quindi alla crescita nel campo sportivo. Sauron Mencaroni, che è un consigliere, se ne occupa in prima persona e noi tutti con la collaborazione di tutta la Proloco. Però qui c'è alle nostre spalle anche una pista di atletica realizzata sempre dalla Proloco Capanne negli anni scorsi. L'atletica Capanne è una realtà che addirittura è riuscita a portare una propria atleta, del proprio vivaio, alle Olimpiadi di Atene. Quindi comunque sia per noi è motivo di orgoglio, di vanto e quindi ecco adesso ci siamo dedicati ai piccolissimi. Tornando invece alle caratteristiche di questa quarantesima edizione, c'è qualche novità, avete studiato qualcosa di particolare per chi verrà per la quarantesima volta magari a Capanne? Allora no, come menù no perché la squadra che vince non si cambia, quindi abbiamo fatto dei piccoli accorgimenti, dei piccoli integrazioni negli anni scorsi al nostro menù, però il nostro menù è consolidato, quindi non tocchiamo niente. Pescare a manzia e poi perché comunque sia diventa difficile gestire cose diverse. E poi come la tradizione si balla, c'è una bellissima pista, c'è la pesca che è un altro momento tradizionale, insomma si ritrova un po' l'aspetto delle tradizioni anche all'interno di una saga. Sì, Capanne come ho detto in precedenza sempre è una piccola realtà, quindi abbiamo anche uno spazio limitato, però cerchiamo appunto di richiamare tutte le tradizioni, sia quella del ballo, sia quella della buona cucina, sia quella dell'area giochi per i bambini e chi più ne ha più ne metta. Sentiremo diversi dei componenti del Consiglio della Proloco, una grande squadra alla quale va in questo momento credo il pensiero del Presidente perché inizia, possiamo dire, da questa sera un grande lavoro per tutti. Sì, in realtà è iniziato ieri sera perché la nostra saga è iniziata ieri sera, infatti sì, io faccio un grosso in bocca al lupo, un grosso augurio a tutti i miei collaboratori e i nostri intervenuti che siano nel migliore dei modi come sempre perché è un grosso sforzo e tutto questo avviene gratuitamente, è un'associazione di volontariato quindi nessuno è retribuito per fare niente di quello che fa. Quello che serve è l'unione perché l'unione fa la forza e con l'unione si realizzano cose importanti, da soli non si va da nessuna parte. Questo è quello che penso io e quello che mi hanno insegnato quelli che sono venuti prima di me, da cui io ho cercato di imparare e di raccogliere gli insegnamenti perché prima di me sono state fatte grandi cose. Io ho il compito di continuare a mantenere quello che è stato creato e per quello che mi è possibile crescere finché si può. E allora Elisabetta chiudiamo con una battuta, invitiamo i nostri telespettatori a venire a Capanne, venite a Capanne perché? Venite a Capanne perché si mangiano degli ottimi umbricelli, si mangiano le ranocchie che sono tipiche della nostra tradizione perché c'è allegria, c'è musica e c'è divertimento e ci sono persone che mettono l'anima, il cuore in quello che fanno e danno il massimo per voi.